musica 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 ragazzi e benvenuti nel mio primissimo video in questo nuovissimo canale thomas tv nei miei video tratterò di gameplay challenge e altre cose spero di divertirvi che i video vi piacciono e di farvi lasciare un mi piace e di iscrivervi e mi raccomando iscrivetevi già ora o lasciate un mi piace se volete e alla prossima prossimi video